Non vi fu prova dell'ammanco di soldi dalle casse comunali, ma la Procura della Repubblica di Sulmona impugna la sentenza di assoluzione. Secondo round davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila per l'ex funzionario del Comune di Scanno, che era stato scagionato da tutte le accuse con l'assoluzione del Collegio Giudicante del Tribunale di Sulmona, i fatti risalgono al biennio 2016-2017. Secondo quanto emerso nel quadro probatorio, l'ex funzionario sarebbe appropriato di circa 80.000 euro in contanti, sottraendoli dalle casse del Comune di Scanno. Il denaro era provento di tributi vari, pagamento di parcheggi comunali, utilizzo del parasport, scuolabus, pagamenti di pubblicità e affissioni, occupazione di solo pubblico, occupazione delle aree di mercato, proventi contravvenzionali, diritti di urbanistica e di segreteria. Inoltre, sempre secondo l'imputazione, approfittando del proprio incarico, si sarebbe appropriato le 17.500 euro, assegnandosi in aggiunta al proprio stipendio una serie di indennità non spettanti. Nulla di tutto questo era emerso nel primo grado di giudizio quando il castello delle accuse era caduto. Secondo i giudici del Collegio non sono emersi indizi chiari e inequivocabili per ipotesi di reato ripeculato aggravato, tant'è che l'ex contabile, difeso dall'avvocato Alessandro Margiotta, era uscito assolto. Lo stesso aveva già annunciato un max risarcimento danni nei confronti del Comune e non solo. La vicenda sarà probabilmente rispolverata, le giudici aquilani in appello alla luce dell'impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della Procura sul Monese. Si attende la fissazione dell'udienza.